E ritorniamo nella serie di Ice Cream, oggi sarà un video molto particolare perché vi mostrerò ben tre giochi dove possiamo diventare Rod il Gelataio Quindi vediamo tutto quanti insieme ma come sempre siete chiesto tantissimi like per supportare la serie di Ice Cream E se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Ma adesso direi di partire, passiamo con il primo gioco dove possiamo diventare Rod il Gelataio E il primo gioco è questo, Funny Horror Game, tocchiamo subito play, facciamo un new game In questo gioco noi possiamo diventare Rod il Gelataio all'interno sia del quartiere, quindi andiamo qua nel quartiere E sia all'interno del parco giochi, vai! Si parte, siamo diventati Roddino, guardate qua Sono diventato il Gelataio di Ice Cream e posso pure combattere contro tutti quanti gli altri Ho già portato alcuni video su questo gioco e vi è piaciuto un sacco, fatemi sapere se vorreste vedere un'altra partita dopo tanto tempo su Funny Horror Game E qui c'è la foto di Daniel J, la foto del guardiano, no, 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 aspettate c'è una suaretta, c'è una evil nan che mi vuole combattere Ma io, cara suaretta, ti congelo, ti congelo No, 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 si è già spostata, si è già spostata E non è come su Horror Brawl che è il personaggio appena tocco qua Cioè guardate, si sposta subito, si sposta subito Non c'è proprio modo di colpirla E' veramente difficile riuscire a congelare il nemico perché si gira subito, guardate Ora la congelo Oh, dopo tanto tempo ce l'ho fatta ma non è successo niente perché tanto poi elimina pure me Avete visto? Mentre la congelavo mi colpiva lo stesso Mi colpiva lo stesso E lì c'è un Jason che cammina dentro il furgone Jason, perché vuoi entrare nel mio furgone? Perché vuoi entrare? Bellissimo Sono diventato Rod, il gelataio di Ice Cream Lì c'è un Grampa che cammina, c'è un Grampino caro Che va di là Cosa vorrà mai fare Grampa? Cosa farà mai? Non lo so Ma vediamo qui dentro se si può entrare dentro la casa di Jay No, non è come su Horror Brawl che posso entrare dentro le case Però qui possiamo ammirare il quartiere Il quartiere che c'è nel mondo di Ice Cream No, lì c'è un Mr. Meat C'è un Mr. Meat che non mi ha visto, non mi ha visto Ma no, 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 adesso mi ha visto, mi ha visto come? Ma Mr. Meat, ma cosa c'è? Ma perché ce l'hai con me? Perché ce l'hai con me? Guardate Mamma mia, mamma mia, mamma mia No, 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 si è girato subito E girati Rod, ma perché? Ma io vi chiedo veramente in sto gioco È veramente difficile riuscire a colpire l'avversario quando mi congelo Perché quello si gira subito Si gira subito Sarebbe stato bello se avessero fatto questo gioco anche in modalità multiplayer Ci sarebbe stato da divertirsi No, 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 Mr. Meat Non mi prendere, non mi prendere Via, via, via Mi arrotolo come una piadina Ah, ah, se tocco questo pulsante Ah, di qua posso prendere bene la mira per congelare Mr. Meat Dove sei? E ma mi è sparito Mr. Meat Dove era? Mi stava seguendo Ma perché quel grampa ha una V sulla schiena? Aspettate C'è una V sulla schiena Grampa Ti congelo Ti congelo Si, l'abbiamo preso L'abbiamo preso E ti congelo ancora Ma cos'è? Ma hai eliminato me Sono stato eliminato anch'io E quell'altro grampa che fin ha fatto Ah, è vero All'interno di questo gioco Quando noi veniamo eliminati Gli altri personaggi tornano in vita Ma non è giusta però sta cosa Non è giusta E vabbè salgo qui sopra il furgone di Rod Salgo sopra il furgoncino Voilà Buonasera a tutti Un caro gelataio sul furgone di Rod Allora, volete gelati? Amichetto Jason Vuoi un gelato? Te lo offro io Te lo offro io Va bene, adesso devi passare al secondo gioco Dove possiamo diventare Rod il gelataio Il secondo gioco è Horror Brawl Ovviamente però per diventare Rod Devo selezionare Rod come personaggio horror Quindi tocca qua seleziona Però vorrei mettergli la skin quella normale Perché voglio diventare Rod però in modalità normale Selezioniamo Perfetto Ma direi anche di mettere la mappa di Ice Cream E andiamo qua a fare una partita privata Così vediamo come diventare Rod il gelataio Si parte Si comincia Creiamo la sala Come personaggio pure Jay Con praticamente l'abbigliamento di Ice Cream Va bene, va bene Con la skin del gelataio Si parte Si comincia Siamo qua all'interno del quartiere Per diventare il personaggio horror All'interno di Horror Brawl Dobbiamo trovare praticamente la chiave Oppure le quattro pietre del caos Ebbene si perché c'è una chiave nascosta all'interno della mappa C'è una chiave blu Questa chiave blu ci permette di aprire una stanza segreta E in quella stanza ci sono praticamente le pietre del caos Che ci permettono di trasformarci Allora Alcune volte la chiave si trova qui sotto Non in questo caso Vediamo qui se c'è qualche pietrolina Niente, niente Qui dentro c'è qualcosa Anche di qua Sì, gli oggetti ci sono Ma non ci sono le pietre che ci servono Qui dentro E vabbè E niente Qua non ci sta niente Niente di niente Velocemente Ce ne andiamo Dritti verso il cimitero Vediamo se al cimitero si trova la Chiave blu Alcune volte si trova anche di là Quindi vediamo se in questo caso Siamo fortunati No, non è in questo caso la nostra fortuna In questo caso non sono fortunato Nel frattempo comunque Procura le ceste che trovo Perché nelle ceste posso trovare le pietre del caos Con le pietre noi ci possiamo trasformare E vediamo se invece si trova all'interno del circo Chiavetta blu Dove sei? Dove ti hanno piazzato? No, seriamente Ma sta chiave che fino ha fatto? Che fino ha fatto la chiavetta? Su, 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 su Forse dentro qualcuno A volte mi è capitato di trovarla qua dentro Nascosta Ma non in questo caso Non in questo caso Allora Su Dove è sta chiave? Dove l'hanno messa? Dove l'hanno piazzata? Dove sarà spawnata? Ma neanche le pietre del caos sto trovando Cioè guardate qua Sono senza pietre Di qua Vediamo se sta qui dietro alcune volte No Non in questo Uuuuh Sta di qua Abbiamo trovato la chiave blu L'abbiamo trovata E per fortuna l'ho trovata Perché non me ne ero neanche accorto E adesso di corsa Possiamo subito aprire la porta segreta Cioè andiamo subito di corsa Veloce, veloce, veloce Vai Jay Vai direttamente Dove c'è la porta segreta Così diventiamo Rod il gelataio In questo modo noi possiamo diventare il gelataio di Ice Cream Questo diciamo un secondo gioco dove noi possiamo diventare appunto il nostro caro amichetto Roddino Adesso saltiamo di qua E preparatevi perché stiamo per trasformarci in Rod 3, 2, 1 E vai Stiamo diventando il gelataio Sono Rod il gelataio All'interno del quartiere Beh prima qui dentro ci abbiamo girato all'interno di Funny Horror Games Questa volta invece ci giriamo all'interno di Horror Brawl Praticamente con Rod il gelataio Noi abbiamo pure alcuni poteri Ad esempio io tocco questo pulsante qua E posso praticamente congelare gli avversari che sono in partita Con questo pulsante invece li colpisco Proprio li prendo E li congelo direttamente E niente con questo mi posso accovacciare E sono praticamente un gelataio Che gattona a terra Guardate qua Bellissimo Aspettate voglio provare ad usare il potere da accovacciato No non funziona Va bene Adesso aspettiamo qui che finisca l'effetto Dopodiché passiamo al terzo gioco Dove possiamo diventare Rod il gelataio di Ice Cream Ok vai Vediamo cosa succede E siamo tornati normali Siamo tornati normalissimi Peccato peccato Direi allora di passare al terzo gioco Dove possiamo diventare Rod il gelataio O sia su Ice Cream 4 Ma con la mod di Outwit Perfetto Siamo su Ice Cream 4 Tocchiamo subito gioca Andiamo in partita E siamo però con la mod di Outwit Vi ricordo che la mod di Outwit E' riservata soltanto per alcuni youtuber selezionati Quindi non vi posso dare il link per scaricarla Però vabbè dai ci penso io a farvi vedere Come diventare Rod il gelataio Allora per prima cosa Dobbiamo uscire dalla gabbia Perché nel quarto capitolo Noi siamo ingappiati Ci hanno messo qua dentro Come se fossimo praticamente Non lo so Dei carcerati qua Dentro le gabbie Via 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 I mini Rod meriterebbero di stare dentro le gabbie Loro meriterebbero di starci dentro E adesso apri quel condotto Velocemente Apri quella porticina E prepariamoci Stiamo per diventare Rod il gelataio All'interno della fabbrica di Ice Cream Lo facciamo tramite questa mod Infatti se noi andiamo qua su Rod menu Possiamo giocare come Rod E siamo diventati Rod il gelataio Guardate qua Posso praticamente congelare Chi mi sta davanti E niente Poi posso camminare Posso fare tante belle cose Bellissimo Posso pure accovacciarmi Guardate come cammino d'accovacciato Spettacolare Spettacolare Cos'altro posso fare Posso tipo Non lo so Fall trap Che è sta roba Ah Ma che Si è imbambolato in sta posizione Si era bloccato di là Apri qua la porta Vediamo se troviamo qualche mini Rod Da poter congelare Mini Roddini Dove siete Eccolo qua Eccolo qua Vediamo se riusciamo a congelarlo Proviamo a vedere Vediamo se ce la facciamo No non ce l'ho fatta Ma dai Ma cosa Ma di spalle L'ho preso Cioè tecnicamente di spalle Si dovrebbe congelare No E invece no Non è accaduto nulla Di tutto ciò Vediamo se riusciamo a congelare Rodd Dove è Rodd Aspettate aspettate Mi sa che Mi conviene fare un'altra cosa Mi conviene mettere qua Se ce la faccio Eh God mod Così Rodd non mi può colpire Ma io posso colpirlo Vieni qua Rodd Siete pronti Stiamo per congelare Rodd Vai Congeliamo il gelataio Sì Roddino caro È stato congelato È stato congelato Rodd Adesso proviamo a vedere Se possiamo congelare Il mini Rodd Proviamo a vedere Intanto Rodd Che è iniziato a camminare Finalmente ha un'animazione Di cammino Eh che roba Roddino Allora apri quella porta Vieni qua Mini Rodd Vieni qua Sono Rodd il gelataio Adesso ti congelo Per bene Ti congelo Per bene Congeliamolo Vediamo cosa succede Sì Abbiamo congelato Anche il mini Rodd Lo abbiamo congelato Spettacolare No niente Di qua non si può aprire Non si può aprire E adesso andiamo a congelare Direttamente Boris Il nostro caro amichetto Big Rodd E un peccato Che questa mod Non sia stata fatta Anche per gli altri Capitoli di Ice Cream Mi sarebbe piacuto Diventare Rodd Anche su Ice Cream 6 E congelare Meti Sarebbe stato veramente Un esperimento Molto divertente Togliti Rodd Rodd congelato Togliti E adesso congeliamo Boris Boris Preparati ad essere congelato Vai Abbiamo congelato Boris Ed è diventato pure trasparente Quindi togliti di mezzo Boris Spostati Perfetto Adesso si può aprire la porta No che non si può aprire Non si può aprire Peccato Peccato Va bene dai Io diri di per una cosa Direi che per ora Possiamo fermarci qua Con il video Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere se vorreste vedere Altri video di questo tipo Spero che questo video Ti vi è piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spolliciate Condividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Vi ci vediamo al prossimo video Come sempre Vi auguro buone giornate Buone giornate Buone giornate Buone giornate Ciao a tutti Buon panino a tutti